Stiamo parlando con Michele Ferro, Logic Music Studios, studio di ricerca e ingegnerizzazione sonora privata. Abbiamo immaginato un ideale viaggio del messaggio che dal progetto creativo che parte dal brief arriva poi al consumatore finale. Direi che con la sua specifica professionalità ha molto da dirci sul quanto un messaggio può essere caratterizzato e quanto è importante il vostro intervento. Bene, io vedo intanto uno sviluppo da parte degli operatori del settore, quindi ho notato anche, come posso dire, molta professionalità da questo punto di vista. Vedo che ci sono anche determinate, come posso dire, dei focus su determinati argomenti, molto interessante, quindi ho visto veramente uno sviluppo da questo punto di vista. E qual è secondo lei la tendenza o comunque uno degli aspetti più innovativi o più interessanti? Sì, diciamo che la tendenza è quella di poter veicolare le proprie attività, diciamo i propri prodotti, a quello che sono i più mercati. Quindi trasversalità, orticanalità? Sviluppo nel web e non solo, quindi... La tecnologia quanto aiuta? La tecnologia aiuta moltissimo anche per uno sviluppo verso i vari settori merceologici, quindi tecnologia amplifica quelle che sono tutte le iniziative dal punto di vista, posso dire, immagine, arte e quant'altro. Ovviamente immaginiamo che la sostanza poi debba essere un buon messaggio di comunicazione. Ma quali sono gli errori da non fare nel sviluppo di questo viaggio? Errori da non fare sono quelli di copiare qualcun altro, ma quelli di personalizzare determinate attività, prodotti, immagine e quello di presentarsi al meglio, quindi questo è quanto. Però è bene, secondo me, restare sempre nel futuro, nell'innovazione, quindi errori, non copiare nessun altro. Il cliente percepisce il vostro suggerimento, è disponibile ad ascoltarvi? Direi proprio di sì, direi proprio di sì. Il cliente è disposto ad ascoltare dei professionisti nel settore che siano competenti e che abbiano le qualità per poter raggiungere questi obiettivi e anche per far amplificare le attività promocionali dell'azienda. Certo, la ringrazio. Grazie mille.